un furgone blindato ha trasportato i soldi in un luogo sicuro nascosto e segreto il controllo della sicurezza non debba perdere d'occhio il milione tutto il pubblico è autorizzato a non utilizzare telefoni, videocamere, fotocamere, autofocali e cose così e ora due concorrenti ce la faranno a salvare i loro soldi senza farli cadere esiste solo un gioco questo è The Money Drop